Sale a 13 il numero dei calciatori rossoneri sotto contratto dopo l'uscita di Rocca che nei giorni scorsi ha rescisso il contratto che lo legava alla Foggia per un'altra stagione. Ieri il direttore sportivo Emanuele Belviso ha perfezionato quella che può definirsi a tutti gli effetti la prima operazione in entrata della sessione estiva di calcio mercato. In verità si tratta di un ritorno a stretto giro. Giuseppe Nicolao, uno dei protagonisti del Foggia nella seconda parte dello scorso campionato, l'eroe nella notte del Partenio dove il Foggia a sorpresa guadagnò l'accesso alla fase nazionale dei play-off, ha siglato un contratto biennale legandosi alla società del presidente canonico fino a giugno del 2024. Un colpo, il primo, che di fatto sistema la corsia sinistra di Boscaglia, lì dove Nicolao si giocherà il posto con il riconfermato Rizzo. Il 28enne terzino di Nocera Inferiore, giunto a Foggia da Latina a gennaio scorso, nella passata stagione mise a segno due gol con la maglia del Foggia. Oltre a quello del Partenio, mise il suo zampino anche nel poker rifilato in trasferta alla Paganese. Nelle prossime ore sono attesi altri annunci, probabilmente almeno un paio entro la settimana. Diversi i nomi accostati al Foggia, già detto di due pupilli di Boscaglia, il difensore centrale Somma e il centrocampista Dall'Oglio, entrambi del Palermo. Il Foggia è a buon punto per definire anche l'Operazione Nobile, portiere in forza alla Virtus Francavilla. Il nome nuovo accostato al club rossonero è quello dell'attaccante Andrea De Paoli, reduce dall'esperienza Lascoli, dove ha messo insieme 15 gettoni, senza però trovare la via della rete. Due anni fa, sette i centri tra Cavese e Monopoli, dove giocò nella seconda parte di stagione.